Per rimuovere il tetto della vostra vitara cabrio, abbassare le alette parasole e premere i pulsanti di sblocco del sostegno. Alzare e spingere all'indietro il sostegno e il telo del tetto. Aprire i due bottoni a pressione posti ai lati della plafoniera, sganciare i cinque punti di fissaggio del telo dal telaio parte superiore. Sganciare le cinghiette dei finestrini laterali e spingere con forza i teleietti verso l'esterno. Rimuovere il telo fissato con chiusura a stretch lungo tutto il suo telaio. Sganciare le chiusure a incastro agli angoli. Il tetto può ora essere rimosso. I sedili anteriori scorrono completamente in avanti agendo su questa leva per consentire l'accesso ai sedili posteriori. Attenzione, si potrà bloccare il sedile anteriore nella posizione desiderata solo dopo aver rialzato lo schienale. Tirando quest'anello, il passeggero seduto dietro farà scorrere in avanti il sedile di fronte a lui per uscire dalla vettura. L'inclinazione dei sedili posteriori è regolabile tirando questo pomello. A regolazione avvenuta spingere completamente il pomello nella sua sede per bloccare lo schienale. I sedili posteriori sono ripiegabili per aumentare la superficie di carico. Per compiere l'operazione abbassare lo schienale, alzare il sedile tirando questa leva, sganciare l'asta della parte inferiore del sedile e agganciarla in questo modo per evitare che il sedile ricada all'indietro. Oltre ai sedili si può regolare l'altezza del volante che si sblocca abbassando questa leva. La leva dovrà essere riportata nella sua posizione iniziale a regolazione avvenuta. Se vi capita di dover sostituire una ruota dovrete procedere nel seguente modo dopo aver bloccato l'auto con il freno a mano. Gli attrezzi necessari si trovano sotto il sedile anteriore lato passeggero. Il cric è dietro la borsa degli attrezzi. Per prima cosa aprire il cric girando il perno a mano. Mettere il cric alzato sufficientemente sotto il telaio in corrispondenza dei punti di sollevamento. Allentare i bulloni della ruota con la chiave in dotazione prima di sollevare l'auto. Agganciare la manovella al cric e alzare l'auto all'altezza necessaria. Basta che la ruota si stacchi dal suolo. Svitare i bulloni precedentemente allentati e rimuovere la ruota. Con l'apposita chiave si sblocca il lucchetto antifurto della ruota di scorta. Tirate il lucchetto e giratelo verso sinistra.